Se i giovani sono disorientati, la responsabilità è di noi adulti. Così il Presidente della Repubblica stamattina, Vercelli, Sergio Mattarella, interviene all'inaugurazione del venticinquesimo anno accademico dell'Università del Piemonte Orientale. Riflette sul disorientamento della generazione Z, i nati da fine anni 90, spesso ritratti, spiega, quasi come inerti o rinunciatari. Sinceramente non so da dove possono uscire queste valutazioni così difformi della realtà, così gravemente sbagliata, sulla nostra giovane generazione. Personalmente penso, costantemente trovandone conferma, che questo sia un motivo di speranza per il nostro Paese. E sono anche convinto che il disorientamento che realmente talvolta fiora sia responsabilità di noi adulti. Come potrebbero gli studenti... Come potrebbero sentirsi a loro agio trovare parametri di riferimento, coordinate di comportamento nel mondo che oggi gli adulti presentano loro in questo periodo? Rilancia perciò il ruolo della formazione universitaria per fare emozionare gli studenti. Difficile trovare un'espressione più significativa e pregnante, fare emozionare gli studenti, trasmettendo loro cultura e conoscenza. Toccante il momento durante la cerimonia in cui è stata conferita la laurea onoris causa in medicina a Mariella Enoch, manager della sanità, fra le più esperte e stimate, che da febbraio 2015 a marzo 2023 è stata presidente del bambino Gesù, l'ospedale del Papa. Avevo detto che non era emozionata, non è vero.